Ti prego, ti prego, ti prego, col cuore in mano e in ginocchio, col cuore in mano e in ginocchio, ti prego. Non andare via, non ti azzardare a lasciarci per il calcio arabo. Non esiste. Entra in campo nella ripresa un paio di tocchi e fa letteralmente capire a tutti che c'è un abisso tra la sua classe e quella media. Cioè, se andiamo nella media e poi, pum, si presenta di bar, proprio si impenna il livello, il classometro, non lo so come chiamarlo. Cioè, la partita dove al primo tempo abbiamo visto praticamente nulla, ma nella ripresa è qualcosina in più, ma entra lui e fa la giocata della partita, quella che ti poteva far vincere nonostante la poca brillantezza delle prime partite di Serie A, che stiamo sempre qui, ovviamente, a evidenziare. C'è un abisso proprio, c'è un abisso e quindi, di conseguenza, c'è anche una Roma con Di Bale e una Roma senza Di Bale, senza prenderci in giro e tanto altro, francamente. Ma non voglio parlare solo della Roma, andrò a parlare anche della Lazio, perché lo merita la Lazio dei Baroni. Baroni, Baroni, diamo fiducia, diamo fiducia a un allenatore che se l'è strameritata sul campo. Non a chiacchiere, non a chiacchiere, con le parole della gente, sul campo, sul campo. E ho visto una Lazio, l'unica tra l'altro, no? Se la memoria non mi inganna, parlando delle squadre medio-alte, è l'unica ad aver vinto. E attenzione, anche ad aver convinto, perché ha fatto una signora partita, ma una grande prestazione. E ne parliamo. Prima parto dalla Roma. Affrontare Nicola e le sue squadre non è mai semplice. Il Cagliari, dopo Ragneri, è andato a prendere il meglio, secondo me, che poteva, per quanto mi riguarda. Un degno successore. E il Cagliari è una squadra organizzata, l'abbiamo visto, subito, già veramente a denti stretti. Il primo tempo, come ho detto prima, forse è stato più una fase di studio, forse è consapevole entrambe le squadre di non avere un minutaggio altissimo, quindi che non c'è motore ancora e magari si sono limitate. Ma anche quando poi è uscita la Roma nella ripresa, che ha mostrato maggiormente i denti, il Cagliari è risposto colpo su colpo. E quando c'era da proporsi anche lo ha fatto, di rimessa, forse fosse stato meno egoista l'attaccante, lì piccolo in un paio di circostanze, poteva fare davvero male, poi ha ribattuto anche in termini proprio di occasioni, attraversa una parte, subito attraversa dall'altra, con Marin. Il Cagliari ha messo le cose in chiaro, che è una squadra che lotterà per la salvezza, ma lo farà splendidamente, per quanto mi riguarda. Ovviamente, parlando della Roma, non lo so da chi mi aspettavo di più, qualcuno potrebbe dire l'FA in mezzo al campo, in realtà c'è stata corsa, meno qualità, qualcuno dirà Sule, qualche giocata l'abbiamo vista, altri diranno Dovbic magari, Dovbic è un attaccante d'aria di rigore. L'abbiamo visto anche su quel 3 contro 2 dove fa, secondo me, una giocata che ci può anche stare, ma nella conduzione avete visto quanto i tempi di gioco abbia perso, no? Lì un trequartista di fantasia ti mette in porta 1 o ci arriva davanti alla porta in un 3 contro 2. Lui zappa un po', ma in aria di rigore le cose cambiano, perché comunque due palle sono arrivate, due volte ha coppito e due volte ha creato pericoli nel primo tempo e nel secondo con la traversa. Forse lì un Dovbic in piena condizione segna anche, perché ce li ha mostrati quei gol, se la Roma riuscirà a premere di più sull'acceleratore, e ovviamente al momento non è in condizione di farlo, Dovbic secondo me ha gol, ha gol in canna, senza ombre di dubbio. Lo dico soprattutto dopo questa partita, e qualcuno mi può anche prendere a fischi. Ma il giocatore di maggior classe è stato Di Bala. Questo lo sottoscrivo, non è che parlo con gli occhi dell'amore di quello che è sempre stato appunto spudoratamente amante del giocatore, forse anche sì, certo, però è sotto gli occhi di tutti. Cioè ci sono giocatori che fanno la differenza, e Di Bala fa la differenza. Cioè vogliamo che resti sia per la Roma e sia per il calcio italiano, per quanto mi riguarda. La Lazio molto bene, molto bene, anche perché va sotto, grande gol tra l'altro di Andersen, se non vado errato. E il Venezia ne prende tre, perché poi in un modo o nell'altro le squadre di Francesco, ahimè, prendo un gol, è tutto quello che vi pare. Però ragazzi, fino al 2-1, il 2-1, no, il 3-1 era segnato, non mi ricordo se era all'ottantesimo, giù di lì. Però per gran parte della partita il Venezia è rimasto in gara, ci ha anche provato. È un Venezia che voglio rivedere, cioè non mi sembra una squadra, Poi era orfano oggi di Poi Ampalo, dell'attaccante, no, Bomber. Però mi sembra una squadra che ha delle carte da giocare. Oggi semplicemente però c'era una Lazio superiore. Una Lazio superiore. Mi è piaciuto da morire l'attaccante, Castellanos, ragazzi. Non me l'aspettavo una prestazione di questo tenore, perché al di là del gol, del palo finale, della traversa su mezza deviazione, del fatto che abbia procurato il rigore del trasformato da Zaccagni. E quindi ha fatto praticamente le cose proprio che all'atto pratico hanno cambiato risultato e partita. Ma ha fatto tantissime cose utili per la squadra. Tanto lavoro, tanto movimento, tanto coinvolgimento e la testa leggera. Non lo so se magari il trasferimento di Immobile lo abbia appunto alleggerito e quindi è complice questa situazione. Non lo so. Ma oggi ho visto un giocatore che ha delle qualità importanti. Che magari non erano state espresse sicuramente non con continuità in passato e che può scrivere una bella pagina per la Lazio. Mi ha dato queste vibes stasera Castellanos. Ma è stata tutta la Lazio comunque molto molto unita. Anche il centrocampista. Io non riesco a memotizzare facilmente i nuovi giocatori. Dele Baciru. Dele Baciru. Molto bene. Molto bene. Poi aggiungici che rendo sì. Che mette una bella palla filtrante lì per Lazio e quindi chiude il col 3 a 1. Ma la Lazio anche sugli esterni si azzaccagni. Perché no anche Noslin. Vibranti alla ricerca del... O comunque con la personalità di provare a saltare l'uomo. Spesso ci sono riusciti. Molto bene. La Lazio secondo me molto molto bene. Ripeto. Diamo fiducia a Baroni. Perché questa piazza se l'è meritata. E secondo me ci farà vedere belle cose con la squadra bianco celeste. Ovvio che bisognerà farlo di partito in partita. Va bene. Signori fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate se volete iscrivervi al canale. Un grande abbraccio. Aneschi. 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 Aneschi.